Un tavolo di confronto tra istituzioni, sindacati e rappresentanti di tutti i settori professionali coinvolti per individuare e attuare strategie concrete di messa in sicurezza e prevenzione. È l'obiettivo di una serie di eventi e attività divulgative organizzate dalla Regione Lombardia in occasione della Settimana Europea della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. Un programma che ha visto la rappresentanza a Milano degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione della Lombardia. La sicurezza sul lavoro, la prevenzione che è il tema centrale di questa settimana deve essere intesa come un investimento sociale per la società. Non possiamo ragionare in termini sanzionatori a posteriori, dobbiamo ragionare in termini preventivi. Quindi per noi questo è un tema assolutamente caldo. Nel nostro ordine, nella nostra istituzione abbiamo ben due professioni che si occupano di prevenzione. L'area della prevenzione è rappresentata dagli assistenti sanitari e dai tecnici della prevenzione. Gli assistenti sanitari oltre a occuparsi di educazione alla salute si occupano di educazione sanitaria, di inchieste per le malattie professionali, ma soprattutto vanno a focalizzare sulla consapevolezza, perché chi è consapevole riesce a riconoscere meglio il rischio. Il tecnico della prevenzione è un professionista il cui ruolo e le competenze sono ben delineate nel decreto ministeriale 58 del 1997. Il tecnico della prevenzione si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, facendo anche promozione della salute e sicurezza in azienda e non che occupandosi anche della vigilanza. Un appuntamento ancora più importante alla luce dei dati sulle morti sul lavoro in Lombardia di quest'anno in aumento. La settimana della sicurezza è un momento per noi importante, fondato soprattutto sull'impegno che hanno diversi operatori nell'arco di questa settimana e non solo, ma soprattutto per ribadire l'importanza che si ha l'attenzione e la prevenzione nei luoghi di lavoro. Un momento che è significativo, soprattutto anche per dare un nuovo impulso, quello che è la figura dei tecnici della prevenzione che ancora oggi, anche nel territorio Lombardo, hanno la necessità di esprimere a fronte di alcuni impegni che hanno, il loro impegno e la loro professionalità. Il ruolo degli operatori sanitaria che si devono occupare di attività di prevenzione è un ruolo fondamentale, non solamente su incidenti sul lavoro, ma deve riuscire ad essere trasversale a tutte quelle che sono le problematiche che riguardano ogni giorno quelle che sono le attività che portiamo avanti, con particolare riferimento al discorso degli incidenti sul lavoro.